Più digitalizzazione delle aziende significa città ancora più green e sostenibili, grazie alle minori emissioni di carbonio. Un processo che molte utility, società che si occupano dei servizi base di pubblica utilità come generazione e distribuzione di energia e acqua, hanno avviato tempo fa per nostra fortuna. Secondo il report di Capgemini intitolato The Digital Utility Plant, Unlocking Value from the Digitization of Production, che riporta le interviste di 200 manager di utility in tutto il mondo, negli ultimi 5 anni i player di questo settore hanno investito in media 330 milioni di dollari per avviare un processo di digitalizzazione dei propri impianti elettrici. Se la previsione dei ricercatori è corretta, un impianto su 5 diventerà una centrale digitale, il che significa una sforbiciata ai costi del 27% ma anche, e soprattutto, un meno 5% alla voce emissioni di carbonio per la produzione di energia entro il 2025. La digitalizzazione taglia 625 milioni di tonnellate di co2 e i dati di Capgemini sono chiari, secondo i manager delle utility intervistate. In Cina, Francia, Germania, India, Svizzera, Italia, Regno Unito e Stati Uniti gli investimenti fatti oggi e nei prossimi anni porteranno, nel giro di 8 anni, a un aumento dall'energia prodotta da combustibili fossili e di conseguenza un taglio di 625 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio, come se avessimo eliminato di colpo 133 milioni di auto in tutto il mondo o come se ci fossero quasi 29 milioni di alberi in più. Puntare sul digitale per migliorare la produttività l'effetto principale delle centrali ad alta digitalizzazione è l'aumento di efficienza, che porta alla riduzione dei costi. Ogni stabilimento high-tech potrà risparmiare fino a 21 milioni di dollari l'anno grazie alle nuove tecnologie. Peccato però che al momento soltanto l'8% delle utility mondiali è a un livello sufficiente di digitalizzazione, il che significa il 33% di produttività in meno rispetto a chi sa maneggiare con competenza le tecnologie digitali. Quali sono i paesi più digitali del mondo? Innanzitutto bisogna sfatare un mito, secondo il Digital Evolution Index promosso dall'World Economic Forum, che ha analizzato l'evoluzione digitale di 60 diversi paesi attraverso 170 indicatori. Le nazioni più digitali del mondo non sempre sono le più ricche. Il continente più interessato dalla digital disruption al momento è l'Asia, con Cina e Malesia che fanno da apripista. In entrambi i paesi sono previsti grandi investimenti di imprenditori visionari, con la benedizione dei rispettivi governi. Anche l'India è molto avviata verso la digitalizzazione, ma serve ulteriore spinta. Ovviamente in cima alla classifica troviamo anche Stati Uniti, Germania, Giappone e Regno Unito, il paese più attento al digital di tutta l'Europa. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Roodoo Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare. Quanto diminuirevi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE. Unicamente per finalità illustrative.